Il poco che abbiamo visto è un Cesena che di sicuro non avrebbe meritato di perdere. Forse alla fine il punto ti sta anche un po' stretto? Sta molto stretto. Peccato per il risultato. Perché se vogliamo fare il salto di qualità, partite come queste le dobbiamo vincere. Perché nella prima mezz'ora abbiamo giocato nel metacampo loro, essendo magari poco determinati negli ultimi 20 metri. Però abbiamo creato tante situazioni. L'unico, se devo dire l'unico neo per quanto riguarda la prestazione dei miei, che al primo episodio succede questo rigore casuale, nel senso che sbatte sul braccio di un mio giocatore, non possiamo uscire dalla partita. Questo è che mi sono lamentato nell'intervallo. Ho chiesto di dare tutto nella ripresa. La squadra è uscita subito forte, ha pareggiato. Sembrava che la vincesse da un momento all'altro. Dagli attaccanti o dai due esterni hai aspettato in termini magari di cattivere, di presenza, qualcosa di più? Io, avendo cambiato tanto l'assetto basso, diciamo così, dei 4-3, ho preferito continuare per come erano abituati. Perché comunque lavoravo una sei mesi con questi due esterni e un attaccante. E avevo visto in settimana che comunque lo fanno bene.